Con il patrocinio del comune di Gioiosa Ionica, l'associazione Orizzonti in collaborazione con la parrocchia e l'associazione Borgo Antico organizza per sabato 13 luglio con inizio alle ore 20 e 30 lo spettacolo canoro di giovani talenti calabresi Sant'Antonio Summer. È una manifestazione molto seria ma principalmente perché coinvolge giovani e giovani talenti della nostra terra. Addirittura qualcuno si esibirà con brani inediti come cantautore. È bene dare la possibilità a questi ragazzi di potersi lanciare in questo mondo della musica che purtroppo è molto difficile realizzare questi sogni perché ce ne sono tantissimi. Questi new talents per me è bene dare la possibilità, l'opportunità anche perché fanno parte della nostra terra. Dare questa possibilità di potersi far conoscere e da educatore e formatore musicale ho condiviso appieno l'iniziativa perché è importante dare spazio ai nostri giovani. Ciao a tutti, mi chiamo Martino Abruzzese, ho 20 anni e vengo da Mammola. Canterò un brano dei Nomadi che si intitola Un pugno di sabbia e un brano di Lady Gaga che si intitola You and I. Il messaggio che voglio lanciare è di inseguire sempre la musica in ogni situazione perché salva e cura l'anima. Sono Domenico Cagliuso, ho 18 anni e vengo da Maria di Giusea Ionica, come potete vedere questo meraviglioso mare. Il 13 luglio canterò queste due canzoni famose che sono My Way e It's Now or Never. Volevo lasciare appunto un messaggio a tutti per quanto riguarda la musica perché secondo me questo paese può dare e può continuare a dare musicalmente e culturalmente. Io sono Giovanni Califa, ho 16 anni e sono di Giusea Ionica. Canterò il mio inedito, Cercami in un sogno e siamo uguali di Lorenzo Fragola. Sarebbe bello che i giovani si avvicinassero alla musica e ancora più alla cultura in generale. Mi chiamo Anna La Croce, ho 12 anni e mezzo, vengo da Silvia Marina, provincia di Catanzaro, vi canterò Ci vediamo a casa di Dolce Nera. Io canto alla tenere età e spero che un giorno diventerà il mio lavoro. Mi chiamo Giulia Macri, ho 11 anni e vivo a Giusea Ionica. In questa manifestazione canterò Malamore No di Arisa e come un pittore dei Modà. Il mio sogno ferrà la cantante e sono del parere che con l'impegno se posso sognarlo posso farlo. Sono Ilenio, 16 anni, vivo a Caulonia e sono una contautrice. Sabato vi farò ascoltare due mie inediti, Continuo a Sognare e Basta Così, canzone con la quale sono stata presentata a Sanremo Giovani dalla mia casa discografica. Per me la musica apre le porte dei sogni. Un saluto, ciao! Ciao a tutti, mi chiamo Claudio Messina, ho 15 anni, vengo da Squillage, canto Un'emozione da poco e io che non vivo. Ricordatevi che, come dice un grande filosofo, la vita senza musica sarebbe un errore. Ciao a tutti, sono Davide Natì, ho 15 anni, abito a Sant'Antonio, una contrata di Giusea Ionica. Canterò Chiamami ancora amore di Roberto Vecchioni e Angelo di Francesco Renga. E niente, mando un grosso in bocca al lupo a tutti e sono felice di cantare con voi, tutti uniti. Ciao a tutti, mi chiamo Noi Nizzar, ho 13 anni e vengo da Giusea Ionica. Canterò Ti avrei voluto dire di Federica Carte la mia voce del film Disney Aladdin. Io penso che stare insieme è un inizio e lavorare insieme è un successo. Ciao a tutti, sono Maria Grazia Reale, vengo da Giusea Ionica e ho 13 anni. Canterò Ora esisti solo tu di Bianca Azei e sento solo il presente di Annalisa Scarrone. E dico a tutti di studiare la musica perché è la cosa che più ti fa vivere, la cosa che ti rende felici. Ciao, sono Francesca Scicchitano, ho 16 anni, vengo da Sant'Andrea Apostolo dello Ionio e canto Quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia e Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani. Per me la musica è un ilisir di energia e di felicità. Vi aspettiamo a Giusea Ionica, a Frazione Sant'Antonio, a fianco del Santuario della Madonna delle Grazie, sabato 13 luglio, a partire dalle ore 20 e 30, con giochi, musica e gastronomia.